Il 25 luglio scorso a Guidonia, libero da servizio il giovane poliziotto di Pratola Peligna, Danny Primavera, salvò con il suo tempestivo intervento un uomo colto da improvviso malore. Un massaggio cardiaco eseguito con prontezza e grande slancio umanitario, decisivo per scongiurare un esito drammatico. Questa mattina l'amministrazione comunale di Pratola Peligna ha voluto testimoniare a nome dell'intera comunità pratolana la profonda ammirazione per i giovani con la consegna di una pergamena da parte del sindaco. Antonella Di Nino